Documento in mano si è recata all'istituto scolastico da Ponte per sostenere l'esame di italiano con l'obiettivo di avanzare la richiesta di cittadinanza. Poche parole, l'esaminanda è passata al primo controllo per l'identificazione, ma non senza insospettire il personale docente. Eh sì, quella foto non pareva proprio corrispondere all'alunna in questione. Qualche controllo, molti dubbi, così sono stati allertati i carabinieri che in pochi minuti hanno raggiunto la scuola. È bastato poco ai militari dell'arma per capire che la donna in aula non era di certo la persona che doveva sostenere l'esame. In realtà, a svolgere il test, doveva essere una parente della 33enne, una donna di 52 anni. A finire nei guai, dunque, una camarunense 33enne, dimorante nel Trevigiano, operatrice sociosanitaria, che è stata ritenuta responsabile dei reati di sostituzioni di persona e falsa attestazione a pubblico ufficiale, essendosi presentata sotto altro nome ed esibendo un documento di riconoscimento non suo davanti ad una commissione di esame e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, avendo firmato il registo per la prova d'esame del Ministero dell'Istruzione a nome della parente.